Facciamo uno intanto Però c'è Ciao amici di Twitch Come state grandissimi? Buona serata a tutti Intanto condividiamo Mentre rispettiamo Sharder che entra Ma c'è in chat con noi Il grandissimo Kevin Ciao amico mio, ciao Kevin Ciao, buonasera Bella lì Kevin Dimmi tutto Posso mettere il qualifying veloce? Sì Mentre il qualifying buon appunto Ok Se almeno se non iniziamo Puoi Sharder viene Può anche qualificarsi Sì perché entra dentro diciamo E col tempo ce la fa Un giro Un giro entra deve guardare Non lo so poi Dopo Ci sta Ci sta Per quale motivo sta ronzzando Il mio microfono C'è sempre una qualche stronzata Eh Senti che rumore che fa Cosa fanno romperci Sti microfono In continuazione Aspetta Aspetta Sto provando Sto provando Sto provando Cosa Cosa Ciao amici Sto provando Sto provando Non si può fare No vabbè ma la graffi No l'audio così Aspetta che devo vedere Un'altra Ciao amici Allora Puoi farmi una cortesia Intanto che aspettiamo Sharder Mi vai a vedere la live Kevin E vedi se si sente Col rumore di fondo Che non vorrei che Ho acceso io Il coso Mi lo fa perché Mi autosento Se si sente bene La mia voce La tua Mi sento C'è quello lì C'è quel rumore lì Adesso Prova vedere Senti ma leggermente Prova adesso Che ho spostato Il cavo Sempre c'è Deve essere più forte Di più Allora Aspetta Facciamo così Deve essere dritto Il cavo Vabbè Sei dentro Magari non voglio Entrare a parlare Vabbè Sentimi se c'è sempre Sto rumore Che sto modificando Un po' Il cavetto Com'è Sei sempre sto rumore Invitatemi in party Dice Madonna Scusa Vito Come si sente Si Non me lo puoi dare Quello e quell'altro Eh C'è sempre quel rumore lì Non me lo puoi dare Perché c'è Non lo so Io Ci sarà tirato Il cavetto Delle cuffie Scusa Scusa Andava fino a prima Andava bene Ah no Sì Deve essere il filo Delle cuffie Si Fa un po' Di corto Ma non ho altre cuffie Vito Ciao ragazzi Ok Ok Allora ragazzi Rimanete in party Che fra qualche secondo Spero di risolvere Il problema Delle cuffie Che fanno Ok raga Siamo Alla lega Col mitico Marco E che è il mamma E che vi ne aveva detto Di invitarlo nel party Hai già dentro Hai già dentro Nel party Ma non parla Ah no Devi entrare nel party Che è Eh Marte Ho sbagliato la curva Ma che brutto Eh Il brutto Il brutto Il brutto Il brutto No Dai Il brutto Prima Ah Sì 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 Ah Che brutto Ah Sì Sì L'ultimo Mato Vai Sì Sì Mamma mia Non me la ricordavo proprio Questa cosa è tutta lenta Ventesimo Eh Vedi a fare La cosa Senza provare Cioè Subito Giro secco Questa festa già non mi piace di mio eh Qualifiche completate La direzione non ve le fai niente Amore Mi puoi dare il 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 Così La copiata Ah Cos'è la copiata La sua parte Ma Sì Sì Mi senti Puoi controllare per piacere Se è meglio Ok Allora sono queste le mie Le altre bisogna buttarle Viene Mazzine Quindi anche quella lì Domani Oh Ti ho dato tutti male Ah Ah Mamma mia che schifo Ciao Ordiniamo Ciao che ordino le cuffiette da Amazon Sette e ventinove Sette ore e ventinove Sì Sono quelle Originali Sì Sì perché c'è scritto Luca Luca Ciao amico mio Si sente bene la mia voce Luca Dimmi Fammi sta cortesia Se Ciao amici E amiche Oh Non bancarmi dentro Sì È un bordello ragazzi Siamo partiti dietro Perché È stato un giro Pessimo De dirlo Un sharder come se ne arriva Sharder è arrivato a fuoco Ciao amici come state grandissimi amici di Twitch Stiamo giocando io Sharder Si sento benissimo Oh che bello C'avevo due cuffiette rotte amico mio Devo ordinare da Amazon Stanotte li ordino Ho messo in neutra Ho messo in folle Che cosa non andava Dai No Uh Sharder è andato Ah Sharder è andato Davanti ai miei occhi Sto pista è un disastro Ciao amici Si Allora in parte c'è la amico Kevin Il mitico E in game c'è anche il sharder Oh Caloca Sto pista è Cucca loca Allora Lucas ho Risolto il problema del Volante Credo eh Aprendolo Dandogli una bella pulita Se volete Potete trovare Il video della pulizia Sul mio canale youtube Sarebbe piacere Se andate a vederlo Perché ho fatto un video Fichissimo Sprime Brutto incidente Vabbè dai Dimmi che sei tutto intero Ok Ok Questa pista Io la odio La odio 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 Ragazzi Come la odio Io Io sono andato a sbattere Grande Allora vengo a vederti Aspetta Allora Allora Sharderino è È in pista Ho visto che sei messo All'opera Grande Grande Luca Sì 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 Ho aperto tutto L'ho pulita C'era una marea Di pedi di gatto Perché il mio gatto Ho notato che alla sera Si mette qui Non so perché Però Con tutti i miliardi di posti Che c'hai Tre scatoline Tutte e due Viene a dormire Sul mio volante Era proprio pieno Di tasato Sul Sull'ingranaggio Dove fa così La rotella L'ingranaggio Tutto pieno di pedi di gatto No Poi ho spruzzato Lo svitol elettrico Sui contatti Quindi Sì Allora vediamo Sharder è uscito No Kevin è uscito È rimasto Sharder Vediamo Cosa combina Con Senza ala davanti Vediamo che cosa combina Il nostro video Sharder Senza ala Eppure Eppure sta viaggiando Ha fatto meglio di noi Quindi Io ho preso dentro Il pezzo Lì Della 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 pista Allora Ciao amici Amiche di Twitch Come state ragazzi Ragazze Grandissimi Grandissimissimi Spray Allora Mettiamo due Cuffiette Della play Nuove Anch'io Ho due gatte Con i pedi Sono un problema È vero 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 Ma poi Dico Ma io dico No Con tutti i posti Che ci sono C'hanno La mia C'ha due Due o tre Perché c'è anche Quella di Olli Le cucce No I suoi posticini Ma puoi Andare a dormire Sul mio volante C'è quello Il suo scopo Capito E allora Eh Sinceramente Non lo so Sai che non lo so Grande Grande Luca Sei preso le cuffie Grandissimo Le mie I miei figli Hanno pensato bene Di spaccarmele Ha detto che si sente Un po' E un po' Ma è finita la gara? Ah Mi sta facendo vedere Le riprese dal dentro Anche È bello Vabbè ci sta Mi sta facendo un po' Di cambi visuale Infatti Ho rimanato i figli Dalle cuffie Bravo Bravo Luca Anch'io Però me l'hanno scassata Che si sente Da una cuffia D'altra No Qui mi scassano Tutto Incredibile Incredibile Guarda Lasciamo stare Giro più veloce Andrea Che non sta giocando Eh sì Quella cosa lì Devi Toglierla Ok Sono cose che Tanto ci parliamo Tra di noi Non c'è bisogno Dirle È l'ora Allora Il mitico Sharder Comunque Nonostante Tutto Eh Si è discesi Bravo Sharder Con la macchina Senza l'alettone Ciao amici Allora Stiamo vedendo Il mitico Sharder Perché io mi sono schiantato Ho perso una gomma E anche credo L'amico Kevin Sì No Io ho brancato dentro Solo l'angolino Appena appena Del Well Andrea Andre Andre Andrea Ho risolto Il problema Del pedale Hai visto Andrea Il video Guarda Ti posto Vi posto ragazzi Il video Della pulizia Del pedale Ciao amici Di Twitch Ma vai tranquillo Grandissimo Si è rimasto senza correnti Ma che fa La slega Senza di me Assolutamente no Ti stiamo aspettando Amico mio Tra l'altro Sta andando benissimo Hai fatto il giro E mezzo Dai vai tranquillo E' stato un po' Mezzo disastro Se vogliamo essere un po' Sinceri Vero Kevin Un po' Mezzo Disastro Per la Ferrari E' stato un disastro Ok Allora 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 Vi sto condividendo Il video Aspetta Sono andato Su YouTube Ciao amici E amiche Di Twitch Come state Ragazzi Grandissimi Allora Vi sto condividendo Un video Fighissimo Spray Bella figa Loki c'è Ciao Loki 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 combina Guai Allora Questo video qui Ragazzi Se li cliccate sopra E' il video Che ho fatto La pulizia Della pedaliera Della Logitech G923 Se vi può interessare Che ce l'avete anche voi Solo per vedere Basta cliccare E Ma chi è che ha fatto Un bellissimo ride Io Adesso Grande Loki Grande 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 Boys Friend Hai capito Il lochino Bravo 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 Loki Adesso arriva Il mitico Andrea E continuiamo la Lega La prossima La facciamo in maniera diversa Eh Io Piccolo Tu sei grande Grande Loki Tu sei grande Il maestro Driftatore 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 Allora Caspiterina Quando schiacci E ti partono i video Che tu non vuoi vedere Ma loro partono Lo stesso E' una cosa Veramente che fa Arrabbiare Ok Mo' vado a dormire Eh la madonna Come mai Phil Ma sei strato Sei stanco Devi andare a lavorare Ho raggiunto 130 Grande Loki Devi andare a lavorare Phil Buonanotte Buonanotte Phil Non so se mi rispondi Sveglia le 3 Eh la madonna Buonanotte amico mio Buonanotte Phil Stavi bene Buonanotte Allora sono le 10 11 12 5 ore Dormi Vai subito Phil Corri Corri a letto Corri a nanna Ciao ciao Notte Phil Ciao grandissimo Madonna Quanto ti capisco Phil Porca miseria Ragazzi Che orari Che orari Quindi ha vinto Eh Madonna Povero Phil Devi andare a lavoro Alle 3 Mamma mia Eh Sì infatti Almeno 7 ore Non so come fanno Anche l'amico Andrea Va letto Soprattutto Allora Andrea Scharder C'è a parti Eh se volete Io ottengo 2 ore in più 3 Alle 5 Alle 5 Ti alza Il shader Grande Grande No io Ho le 6 E 20 Ragazzi Potrei svegliarmi Anche le 7 Aspettate Ok Ok Aspettiamo un attimo Che arriva anche Andrea Allora Perez Hamilton Ok Ciao amici Di Twitch Come state Grandissimi Grandissime Dai Benvenuti Stasera facciamo Una bella Allora Vediamo un attimo A livello Classifica Kevin Ci abbiamo fatto Un po' Un disastro Qui eh Perché dovete capire Ragazzi che siamo In Lega Siamo io Kevin Andrea E Scharder Potete venire Anche voi Basta iscriversi Iscrivervi Al mio canale E frequentare Così Le live Così possiamo Possiamo Oh Per fortuna Sono ancora primo Ma per poco Amico mio eh Eh Per poco eh Ancora per poco Allora Aspettiamo Giappone 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 Mamma mia Giappone Giappone difficile Vabbè Eh L'inizio della mia Carriera Della Lega È stata A bestia Proprio Di brutto Però Però La fine Non È stata Molto Bello Suzuki Marco Eh Lo so Lo so Però È quel Cavolini Di Bruxelles Quella Coppista Qua Che Mi fa Sempre Un po' Tribulare È una Bella Pista Sì Sì È vero Ma sono tutte belle Il problema è come Come si gestiscono Allora Sharder c'è Kevin c'è Aspettiamo un secondo Andrea Che ha detto che arriva Ciao amici di Twitch Come state ragazzi Scrivete in chat Se non siete Iscritti al mio canale Iscrivetevi subito Grazie Dai 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 ragazzi Che dobbiamo aumentare I follower Siamo arrivati a 630 Ma ne Bisogna arrivare a 100.000 100.000 Ragazzi Scrivo Snagor Sul gruppo Corse Vai Andrea Sei entrato È entrato Oh Grande Andrea Eccala Non l'ha ancora fatta Il Giappone Bene Bene ma non benissimo Sì fa Sì fa Sì fa Ma è partire subito così Capito Eh questa è Che c'è Che dica di brutto Est cured Sì fa Si Que Sì Che Que non la riconosco niente da gran turismo qua eh ah grande l'occhi ma no 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 sai che non la riconosco come pista da gran turismo qua sembra un'altra pista non lo so secondo drum non lo so non lo so l'occhi non la riconosco è proprio diversa da grande andrea marco char del sol tutti noi bella lì raghi allora uraga 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 pronti via eh l'occhi è vero l'occhi è vero l'occhi occhio non brancarvi dentro mamma mia ragazzi penso che c'è andrea dietro che mi sta sclerando dietro da quanto la faccio lenta ma non riesco a capirla eh sì è vero è vero mi aspettare ancora un pelino amico mio eh sì è vero o se insomma certo poi puoi giocarci anche tu puoi portartelo sul tuo canale amico mio eh nooo nooo c'è? ah c'è? mamma mia scusa scusa andrea tanto sta lega ormai è andata la prossima dobbiamo stare attenti ragazzi eh la prossima c'è l'esclusione credo che il mitico Kevin l'ha inculato eh non lo so eh sta correndo non può scrivere dopo vediamo se entra nel party eh stanno dietro è un casino non è proprio abituato a stare dietro perché uno frena un pelino davanti un pelino in più caspita da primo a indietro il nostro mico Andrea mi spiace amico mio Andrea ho visto che ha parlato Perché si è acceso nel gioco Ma noi siamo in fatti Andrea non ti sento Adesso poi dopo Lo invitiamo dentro in fatti Andrea c'era in fatti Adesso controlliamo un po' Andrea E' ancora un po' troppo No dice Lofi che costa 70 euro ancora il gioco Di Formula 1 E' appena uscito alla fine Cos'è che due mesi Animal 8 Sì Norris è terribile Sì Bella è bella Suzuca è tanta roba E' tecnica anche Però se non la conosci E' tosta Io mi sto ricordando un pelino Un pelino dentro adesso Da Di quando Miami 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 è abbastanza bella Non è top Ti dico la verità Lofi Non è top Però Il distacco dal tuo compagno di squadra è 15,3 secondi Hai box Ma no Prima la Ce l'ha fatta a finire Che è Charger Un'altra bella bandiera gialla Cosa è successo? Ti chiede Lofi Che Hai faccio là L'ha cerato da sovattu no? Sì Quando fremano è incredibile ragazzi È imprevedibile No Io l'imprevedibilità la posso capire da Dalla gente online Tra l'altro Quando era entrata la mitica Giulia Ho scoperto una cosa Che quelli che vanno forte Praticamente ti spingono un attimino Ti mettono dietro di te Ti bussano Ti spingono Quando sono dietro Però non ti vengono addosso Quando c'è da frenare Ma neanche quelli davanti Frenano in maniera anomala Insomma Non frenano strani Frenano giusti Quindi anche se tu sei proprio dietro a culo Non ti frena quello davanti Strano Prima o dopo Che ti vai addosso Frenano giusto Eeeh Capito per superare Ciao Amici di Twitch Per superare Sta pista è tosta Perché c'è la parte qua Dove All'inizio Dove è tutto a destra e a sinistra Qui non supera neanche molto Si Si Ah E' il problema che questa pista qua Non si supera come dici te Vedo che fate fatica a superare anche Andrea a rivare Si ma se non la prendi precisa Eh Andrea ha subito che Stava parlando Quindi il microfono ce l'ha Perché vedo che si accende Nello schermo no RH si sta parlando Allora io ragazzi tengo la traiettoria perché non mi ricordo le piste eh Faccio veramente tanta tanta fatica a ricordarmi quindi quando gioco Formula 1 che è il secondo gioco mio non mi ricordo le piste quindi le devo tenere questo qui Allora la parte di tutta traiettoria anche sul dritto però potrei toglierla Porca loca E' che mi sono dimenticato perché Eh no io questa qui l'ho messa sempre perché sai che c'è il Quella cosa lì quando facciamo la Che devi stare dentro due metri lì sai quando devi fare le cose lì la telemetria Per avere più punti scuderia Ecco praticamente se lasci tutta la pista riesci a fare anche i punti extra che mancano Dovrei toglierla adesso Bravo bravo Avevi la penalità Grande Grande Andrea Grande come al solito lei è bastarda Amico mio Kevin ha chiesto scusa subito Che ti è venuto addosso Il palestinato vince il gran premio del Giappone Grande Loki e non mi piaceva neanche la pista Allora Se vuoi entrare nel party fammelo sapere Andrea eh Che abbiamo fatto il party eh Non lo so adesso vediamo se ci scrive che vuole entrare Magari non vuole entrare a chiacchierare vuol solo giocare con lui Adesso vediamo un attimo che cosa mi scrive E anche Sharder lo sa che c'è il party ma non entra quindi Magari sai vogliono giocare Esatto vedi vedi lo so lo so Andrea vai tranquillo vai tranquillo Seguici sulla live così chiacchieriamo in tempo reale Tu scrivi e io parlo Cuffie fanno caldo Esatto anch'io ho appena scoperto che fra tre paia di cuffie Ne funziona solo una devo ordinarne altre due stanotte Compro altre due cuffie di Amazon Con questa non è facile Bravo bravo Sharder Bravo Sharder Eh lo so che con quella macchina che hai non è facile arrivare amico mio Ma vai tranquillo tanto questa lega è prova Lega di prova dai andiamo avanti così riusciamo a finirla Vai vai Eh almeno le proviamo anche tutte No perché Sharder ha abbandonato la sessione Sharder Perché? Perché codè sta cosa? Perché ci abbandoni Sharderino? Perché Sharder ci abbandona Ma alla fine la fanno del campionato Miami? O le piste qui sono a caso? Eh? Allora Sharder c'è Soulkiller io non lo sento Ok Ah Ah ok 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 Allora Kevin è da entrare Manchi solo tu Ci sei? Eh infatti Sei entrato? Bella Via 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 Senza perdere tempo ragazzi Tentativo unico Ma non è Miami questa qua Non è Austin? Eh Austin Austin Come si chiama? Come si scrive Austin? Come si pronuncia? Ciao ragazzi dai Mitici Venite Venite a vedere le nostre gare Alleluia Oh Mi stavo fettinando Si questa è Austin Quella che c'è Il destra e sinistra Porca miseria Che lungo che ho fatto E Andrea è già avanti Io ho fatto un disastro Ho sbagliato la prima Le ho sbagliati tutte Staccati di S C'è anche il sole in faccia Porca miseria Eh No è sinistra La curva è sinistra Madonna quanto bisogna frenare In fondo con la curva Ho fatto un po' lungo io Questa curva è staccavolo di Di pista Come ho fatto a girarti Cazzarola Hai messo quell'impostazione Che ti avevo detto No come Come Shard è squalificato Come è squalificato Shard Cosa è successo Shard Mi è andata male Ma cosa è successo Cosa è successo amico mio Che cosa hai comprato Uh Che è questo Sei tu Alla fine Ah Hai tagliato Sì la volta che giri Praticamente si Si sminchia Non tiene più Bravo 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 Mizzga 1 e 9 1 e 9 Tanta roba Bravo 1 e 9 Di vantaggio Bravo 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 Dai dai Però Squalificati lì Siete in gara adesso Ultimi Giusto Ah è fatta male Go 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 No 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 Siete in gara A No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che vale, sei veramente bravo, ma non puoi andare più veloce della Ferrari. Oh, Andrea lo vedo indiavolato. E' dietro, dietro a fuoco. Ha superato due. Oh, adesso che Andrea arriva, arriva. Oh, che cosa ho combinato qua? Andrea è dietro. Ragazzi ce l'ho di fianco. Dritto. Ha fatto dritto. Grandissimo Andrea. No, è andato dritto. Per superarmi, ci siamo superati bene, però io sono stato sulla sinistra, lui a destra e è andato praticamente dritto, porca miseria. Bellissimo, è stata bellissima, ma non è uscito? È uscito? È rientrato adesso? Ok, è importante che rientra, se non è andato a sbattere. Bello, bel duello. Sto andando di brutto, Andrea. Ok, drs. Eh. Però è una rotzura di palle, tutte queste marce. da scalare. Ciao amici, amiche di Twitch, come state ragazzi? Non so come ho fatto a, quando c'era dietro Andrea, sbagliarla completamente proprio, ho sbagliato. E che lui sì, perché ha fatto proprio una merda. Sai, finché il bot dici, vabbè, il bot è tanto stato la tua strada. Ma quando c'è le persone reali a giocare, viene sempre un po' di quella roba, no? Di competizione, anche se poi, mi interessa. Eh, 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 fai bravo, fai bravo, fai bravo, Alonso, vera? Ah, non so, dai che sei bravo, e ti hanno preso anche nell'altra scuderia. Stai tranquillo, però, eh, eh. Eh, incollati, franco bollati. Hai registrato il miglior tempo, continua così. L'occhio ha scritto qualcosa. Eh, ma queste piste qua, uno si rende conto che da superare è un disastro, quando si gioca. Perché sarò a vedere le gare reali, no? Eh, ma, cioè, ma non c'è pochissimi punti qua da superare, scusate. Dov'è che può superare? In fondo qui, dopo le S, destra e sinistra, quando arrivi al prima staccatrona qua, che dove sono io adesso, che devi andare giù di seconda, o sul rettilineo, ma sono tutte che vanno tutte manetta, vanno. Bravo, bravo, bravo. Sharder dietro di me, eh, Sharder c'è da dentro. Sharder è arrivato, c'era Hamilton, ma adesso c'è Sharder. Devo un po' preoccuparvi di Sharder, eh. Anche se ha una macchina inferiore, poverino, che ha dovuto prendere l'Alpine, che c'è che ha dovuto prendere lui? La William. Dopo li sentiamo, dopo li sentiamo. Stasera dobbiamo finire le gare, amico mio. Ma dovresti tirare adesso o dopo? Perché siamo un po' presi. Fammi sapere. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro, ultimo giro, raga. Uh, giro veloce il sol. Grande, Kevin. Oh, mi arrivo alla fine. Alla fine live ti rispondo. Dopo ti rispondono anche gli altri, ok? Uh, come lo vedo arrivare a fuoco. È indiavolato Sharder, indiavolato. È un diavoletto sulla Williams. Eh, 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 eh. Porto rispetto. Grande. Dai, concentrati che sono le ultime curve. Dobbiamo prendere un po' di punti scuderia, amico mio. Ciao amici e amiche di Twitch. Mi raccomando, se non siete chiesti, iscrivetevi al canale, eh. Stiamo facendo una mega lega io, l'amico Kevin. Ciao Kevin. Vabbè, ciao Kevin a metà live. Vabbè, scusami. Mi è riuscito di dire ciao Kevin. Solo due secondi, perché? Quindi sei rimasto quarto? No, no, di una posizione. Quinto ho visto io. Grande. Grande anche Andrea. Non so cosa è successo, ma che hai dato dritto, amico mio. Sharder. Grande Sharder. Bravissimo. Grazie Loki. A finta che... Troppo affoga. Ma sei stato bravissimo, infatti t'ho visto passare e ho detto, no, Andrea passa, arrivo al secondo. Poi ti ho visto andar dritto, no, perché non ce l'hai fatta. Cacchio, ora prendo mano e ho detto, adesso arriverà subito dietro. E invece si vede che ci hai messo un po' a rientrare. Bravi, bravi, bravi ragazzi, dai. È stata bella lo stesso, eh. È stata molto, molto bella sta... sta garetta. Sì, 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 sì. Sì, dai, pulite le gare, dobbiamo fare, ragazzi, così. Bravo, bravo. Bravo, quinto col miglior giro. Dai, dai, andiamo avanti che finiamo sta lega. Dai, 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 forza, forza che mi sta esaltando a finire la lega. Ragazzi, poi stiamo giocando a Mudrunner, che è un gioco di camion. Io, Kevin, Marco. Che poi, tra l'altro, se Loki farebbe anche il plus extra, ci potrebbe giocare anche lui, insieme a noi, vabbè. E, eh... Uuuuh, dai, dai, un po' di punti sto andando. Un po' di punti sto andando, per fortuna, ragazzi, perché... Allora, l'evento lega e le multi giocatore in questo gioco funziona bene. La carriera 2 no. Mi blocca tutto il sistema, mi fa schiattare. Allora, vediamo chi c'è. Vedo Sharder, vediamo Andrea e Sol quando rientrano. Kevin e Andrea, manca. Quattro ne mancano? Allora, metti con Andrea e dentro. Bella, dai, dai, dai. Dai che mancano quattro piste, raga. Dai, dai che finiamo la lega. Poi ne facciamo una, senza l'aiuto del... E senza il coso. Mi sa che il premium me lo fanno i miei genitori quando scade. 14 dicembre, bella lì. Allora, il premium puoi giocare dei giochi due ore gratuite. Secondo me potresti fare l'extra che ti costa 70-80 euro. Poi tra l'altro se tu hai il plus ti fanno pagare solo la differenza, eh. Quindi vedi un attimo cosa... Io ho fatto il premium perché voglio provare determinati giochi. Che pista è questa qua? Ah. Allora, 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 allora. La gramba arriva a un Mexico City. Putta rascara là. Che pistas de smierdas. Non la so, ragazzi, no, la pista è bella. Però, se vi devo dire la verità che la so, vi dico una bugia. Beh, 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 però sì. Perché diciamo che se scegli extra e poi ti fanno una ricarica da 40 euro non è meglio, scusami. Questa è la differenza tra l'extra e il premium? Porca loca! Penso che è una trentina d'euro, eh. Mamma mia, che disastro sta... Quarto! Bravo, Scharder! Non so, amico mio, Loki, poi ci ragioniamo. Ti do le mie dritte e poi farei quello che vuoi. Perché alla fine della fiera... 2P, 2, 2P, euro di differenza. 20 euro? Sono 2P. Eh, beh, 20 euro potresti farti un bel 20 euro su PSN. Che non è male, 20 euro... Puoi già comparti qualche bel gioco, eh. Se sì, infatti, no, vabbè, avevo capito che hai 2P, due palate sui denti. Oh, raga! Attenzione, siamo noi, attenzione. Non voglio pensarci, non prendiamoci dentro. Vai! Sono io, eh, di fianco, eh. Kevin, sono partito meglio. Go, 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 go! Siamo uguali, eh. Azzarola! Scharder è andato lungo. Eh, scusami, amico mio, Scharder è andato lungo, sta facendo casino. Scharder... Che casino! Siamo ruota, ruota io e Scharder! Che cosa è successo? Tu, ah? Come mai? Hai preso dentro Scharder? Vabbè, semmeno ho preso botta. Ah, 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 ah. Avvero semmeno ho preso qualcuno e poi ho preso botta. Ma, è via l'ala, non c'è uscito! Ah ok Ha preso dentro l'ala Loki Qua è tutta Destra e sinistra Madonna che pista No davvero? È andato? Mamma mia Ah il bot l'ha fatto buttare fuori Sì ma i bots sono una cosa incredibile Andrea bravo Charder Charder è qui ragazzi Charder lo vedo dietro Charder bravissimo Charder se gli diamo un mezzo competitivo Ragazzi mi sa che ce lo trovi Online è molto difficile Sì sì è vero è vero Sono i bots e sono incredibili Poi stavolta non c'entriamo niente Eh secondo me cambia la Cambia anche la fisica E la risposta Delle macchine Perché devono aspettare la risposta di tutti Alla fine siamo online Grande dai fumati na siga E poi facciamo l'altra Ciao charder Andrea che ce l'ho praticamente Franco bollato Benissimo Finora questo è il miglior tempo Ciao charder cazzarola questa pista si vede che che non la so bene Charger la sa o comunque Charger è molto bravo ragazzi ce l'ho dietro eh ce l'ho dietro praticamente ce l'ho incollato Charger ce l'ho incollato ragazzi aiuto aiuto raga allora ragazzi Charger è il puntino sopra di me ma dov'è Charger 1.21.0 grande mi segue anche la scia provendo dietro allo specchietto oh mio dio Charger scusa cosa è successo nooo Charger eh eravamo di fianco ma l'ho beccato solo la la gomma eh infatti no no infatti vedo che è qua però è dato due secondi di penalità quindi vuol dire che è stato lui da trocarmi dentro no lui se è colpa mia scusa Charger però credo che stavolta è colpa tua eh bastardo eh sì è vero bellissima perché era proprio dietro eh dietro non so neanche come ha fatto a non venire mai adosso era dietro franco bollato eh mi recupero di Charler, io non la faccio bene questa pista qua, dai, vieni, vieni, amico mio, sei all'ultimo giro, mi distacco dal tuo compagno dietro di te, è 17,1 secondi, dai ti aspetto Charler, vieni, dai andiamo Charler, andiamo, dai si, dai dai Charler, dai che siamo qui, eh purtroppo non c'è la lega, ci fosse, sarebbe una gran figata, si potrebbe fare una lega su Gran Turismo, ma non c'è la lega, facciamo gare così, magari ci fosse la lega, grande, oh peccato, è dato primo Charler, bravo Charler, Charler è riuscito a passarvi, però aveva 4 secondi di penalità e secondo, però è arrivato prima lui, bravo, bravo amico mio, ah cazzo mi dispiace Andrea, la inventiamo noi la lega, eh sì, però non si può fare, quindi non ti conta i punti Loki, è quello il divertente qua che conta i punti, conta le cose, però sì si può giocare a quello che si vuole, ah prima di una curva, ma Charler non sono stato io buttarti fuori là, vero, ci siamo toccati dentro paro paro così, è lì che ti ha dato la penalità, vabbè io comunque ti ho aspettato, quindi alla fine, anche se è colpa mia, eh dai, mi sono sentito in colpa a Charlerino, perché alla fine ti ho buttato fuori, visto che sei andato dietro 5, era bellissima, era bellissima, era bellissima cacchio, grande Loki, Loki, Loki combina, ma già le facciamo le gare Loki lì, bisogna scrivere su un foglietto e tutti si devono scrivere a Discord e poi sul fogliettino si scrivere i punti, dai cosa manca, cosa manca, tre, comunque Charler bravo eh, una gara da paura, dai raga, 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 ta 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 ta, giusto Loki dice Charler, ragazzi entra poca gente, poca gente, poca gente, ormai entra così poca gente, fai l'ultima Andrea, dai vai tra, ma devi andare a lavorare poi Andrea, domani sera Andrea, faccio sudando a non toccarti eh, lo so, lo so, lo so Charler, lo so eh, si ma domani sera, domani sera facciamo Gran Turismo Andrea, non ci sono per le 21, oh, qui non ci sono per le 21, porca miseria, vabbè, ah io ci provo a fare, come si dice Andrea il, il adesso che il volante funziona, però ho già visto che stavo, ho provato a fare una prova con la Genesis, si è vero che mi portava via un po' di secondi ogni tanto quando il pedale frena da solo, però sinceramente amico mio con la Genesis sono fatto fatica e non sono neanche riuscito a farla, quindi da quando riprendiamo domani sera ci abbiamo ogni mese una sub in meno, ma credo proprio amico mio che è difficile, è difficile, caspita, detto da me è difficile arrivare alla fine, si, Kevin Kevin Kevin, aspetta che adesso arriva Kevin, ok grandissimo abbiamo, è l'ultima di Andrea, poi l'ultima la farà il bot, dopo ragazzi noi ripartiamo con un'altra lega, un po' più lunga, un po' più bagnata, Brasil bagnata, è scaduta quasi un mese fa, eh Loki, amico mio, lo so ho visto, ne abbiamo 5, il mitico G, GBR mi ha fatto due mesi di sub, grazie amico mio, infatti non l'ho ancora visto in live per ringraziarlo, ma l'ho ringraziato un sacco di volte, grande Andrea, grande, ti devo proprio ringraziare amico mio perché sei un grande, sei una persona fantastica che non mi ha abbandonato, come l'amico Kevin, come Loki, perché poi tanti sono entrati e come sono entrati sono usciti, purtroppo, invece noi siamo un bel gruppo, rimaniamo unito e ci divertiamo, poi uscirà anche con Stratto Simulator, ragazzi potete fare come i vecchietti che vanno a vedere i cantieri, eh, alla sera vi voglio vedere tutti come i vecchietti, no non ci fa così, no fai di là, non fai di là, ahia, ti è girato? ah ok se giri le ruote la macchina va dritta ragazzi stavo uscendo che bucio oh my god ah Perez primo grande Perez dava il mio oh primo drums non è possibile come fate recuperare è vero poca una pista del brasil beleza obrigado molto obrigado di aver visto la pista del brasil ma ma tempo ma tempo molto linda da 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 o vivo è molto linda oh pista che chova chova molto la è troppo sgrava hai ragione hai ragione ti ho ragione andrea è così è un gioco che la carlita dovrebbe arrivare dovrebbe arrivare è andata ahhh ho ritardato il tempo è andata a correre e infatti e infatti e infatti Perez mi ha dato Perez mi ha dato a te nooo ma non ti ho visto ma lo eri c'era Hamilton eh no io ho toccato Hamilton Hamilton ti ho toccato io non ho penalità ma ti ha buttato fuori fuori oh che eh non non ti ho visto io non c'eri di piango sennò figurati c'era Hamilton eh ma c'era Hamilton no no Hamilton ti ha preso dentro eh praticamente l'hanno brancato dentro eh ma questa sarà difficile anche per me eh uh ma io credo di aver preso dentro Hamilton ma del bot non me ne frega niente ragazzi cioè la botta al bot gliela do però il bot si vede che di fianco c'era eh che cazzo il botta al bot la botta gliela do eh eh c'era l'amico Kevin e e l'ha brancato dentro anche lui vabbè se è stata colpa mia scusa Kevin eh cacchia no ma era proprio Hamilton eh cioè a me c'era scritto Hamilton eh ah ok ma io l'ho consentato su Hamilton di buttarlo fuori ah 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 eh con danni collaterali si chiamano questi ma sto scemonito di Perez come frena ma dai Kevin è partita via già la l'alettone no ragazzi stare dietro ai botta è una cosa incredibile c'ha ragione Andrea Kevin e e bravo bravo ma come fa quello Perez che cos'è Perez che cos'è sulla sulla Red Bull ah no ottimo hai registrato il nuovo miglior tempo della gara prima c'è Perez che prima o poi me lo inculo perché fa fa cose strane che cos'è porca Perez bus ciao uomo tigre amico mio grande oh sei arrivato mentre mi sono impulato Perez e ho perso l'ala grande grande uomo tigre come stai c'è la calzoncina in testa comunque ucchia di fianco no che tutto bene è stato un brutto colpo per favore confermaci che stai bene no scusate ragazzi ho già urlato scusate tanto non voglio spaccare i vostri dispositivi ma che cosa è successo ma chi è sto scemonito mi hanno preso dentro sull'etilino ragazzi mi hanno buttato fuori gomma andata no no vai tranquillo uomo tigre ci mancherebbe bello grandissimo è che tu hai vissuto proprio l'incidente appena sei entrato hai vissuto l'incidente non c'entri niente tu amico mio sei stato fortunato hai vissuto l'incidente non che te lo raccontavano gli altri l'hai vissuto in prima linea sei entrato e Marco Drams bam contro le barriere però sto bene non c'è fatto niente importante ma porca Loki porca Loki no Loki ha scritto ma porca Loki grande uomo tigre come stai tutto bene hai finito le fere hai ricominciato a lavorare io sono ancora in fere ragazzi due settimane me le godo devo far tre o quattro lavoretti a casa ma proprio non ci voglio di far niente devo riprendere assolutamente andare in palestra ragazzi perché sono lievitato sono diventato come lievito di birra davvero è una cosa la panzotta qua è diventata è una cosa incredibile devo per forza andare tutto bene 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 uomo tigre dai qualche sera ci facciamo ah allora tu hai finite una vita le ferie non me lo ricordavo più amico mio non vedevo che entravi allora pensavo che era ancora in ferie sai che io comunque domani sera faccio gran turismo io anche nelle ferie tra parentesi ho fatto 4-5 giornate no 4 giornate in montagna che a me piace tantissimo e poi il resto abbiamo fatto giornata al lago così quest'anno l'anno prossimo faremo due belle settimanozze di ferie magari giù in Calabria adesso vediamo un attimo posti stupendi quest'anno invece l'andai in sci anche perché ragazzi quando si ripartirà settembre voglio proprio vedere a livello spese cosa ci sarà qui faranno allora andiamo a vedere il mitico Kevin caspita e sta arrivando terzo senza mezza ala no ce l'ha l'ala no ce l'hai l'ala dai l'ala dai una sera di questo uomo tigre facciamo una bella una bella gran turismo dai dai ci sto ci sto fa anche formula 1 tu hai detto vero perché uomo tigre vogliamo fare un'altra lega come questa e se ti va puoi entrare anche tu bravo bravissimo bravo Kevin ah anche formula 1 dai ci facciamo una lega come queste qui tanto tu puoi entrare nella lega poi quando vieni a giocare giochi se no gioca al boss da te tanto così per divertirci facciamo una bella lega con tanta gente è più divertente giusto Kevin grande vi da me amico certo grande uomo tigre così mi piace così bella 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 facciamo le cose per divertirci bella lì bella lì mi piace quando uomo tigre dice di sì grande chard hai visto che c'è uomo tigre grandissimo quella sera là è stato bravissimo uomo tigre è più bravo di me è veramente forte chi ha vinto non ho visto ha vinto Hamilton e terzo però il grandissimo Kevin chi ha vinto non ho visto viene a trovarmi se ah perché siete vicini uomo tigre charder eh siete vicini chico ha vinto Hamilton quindi non è una cosa senza l'alettone amico mio oh ma Andrea è arrivato secondo bravo Andrea scusa non ti ho neanche visto cacchio grande Andrea bravo 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 Andrea Kevin terzo se io non andavo a sbattere arrivavo primo secondo terzo noi ragazzi charder ottavo bravissimo ottavo senza l'alettone sei stato bravo dovrebbe essere finita la lega o ragazzi c'è un'altra un'altra gara altre due da che ce la facciamo finire no volevo dire vieni a trovarmi ah ok spero che ce l'hai detto con uomo tigre perché io ho mille passachilometri l'anno prossimo vengo charder tanto devo andare giù dall'amico Maurizio grandissimo quindi magari siamo già lì nella zona viene a trovarmi tu perché allora ho 100 punti secondo me se anche non corro ragazzi ho già vinto la lega è mia però corriamo perché ultimissima dai va grande Andrea bravo bravo oh 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 ma viene a trovarmi nella lobby penso ah ok e penso uomo tigre no nella life vita really life ah perché magari qualcuno è vicino no allora io sicuramente andrò alla games week il sabato ragazzi con le magliette o comunque gli adesivi che vi posso dare da appiccicare sulle magliette se non mi riportano via la security perché sinceramente non lo so dovrò dire oh io c'è un po' di ti devo ringraziare dal vivo per le livree è vero è vero è vero grande grande ti devo ringraziare il mio per le livree che livree ti ha fatto l'amico uomo allora vai ci manca solo soul ah no sei dentro tutti no chi manca no no si 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 vede che ci mette ci mette un po' di tempo da me arrivare il segnale io non vedo l'ora di andare sulle gru ragazzi eh gru e scavatori cosa ne pensi Kevin mamma mia gru e scavatori ruspe a settembre qui eh beh è il 20 settembre però non è non è l'inizio di settembre ah quelle che ho fatto per te che ti piacciono ah ok ok vai vai porca loca ragazzi se trovate un paletto in giro l'ho preso io ah si questo l'ho provato un sacco di volte quella che c'è al curvone può essere si 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 questa è Yes Marina si chiama così porca loca sarà un un disastro un disastro un disastro bravo io primo ragazzi ma non so davvero come mai non so davvero come mai perché ho fatto il primo pezzo un disastro un disastro Andrea Kevin e Charter bravi bravi ragazzi primo secondo terzo quarto tre è stata è stata tosta vi devo dire la verità tosta questa eh ma non me la ricordo non me la ricordo neanche un po' ragazzi non me la ricordo questa oh raga oh raga tra poco go 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 se l'ho fatto? botta, c'è un derino c'è l'è 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 lì Squalificato? Ancora mai? Cosa è successo Andrea? No Dai Cioè ti ha investito Perez e ti ha squalificato Vabbè Non ho parole raga Speriamo Sì vabbè ho capito Però sta buttato fuori ormai Qui è come prima Sharder ce l'ho dietro al culo Eh sì La difficoltà della IA si può impostare Credo di sì amico mio Nell'altra lega la facciamo Cosa vorresti fare Nell'altra lega Non so adesso vediamo che cosa si scrivesse più o meno Così la giochiamo più noi Magari impostiamo la difficoltà di loro più stupidi Ah ok ok Li facciamo più stupidi allora Si lascia ridere Andrea Gli facciamo che vanno dritti Kevin metti difficoltà che vanno dritti ogni curva Charder Charderino ragazzi Lo vedo arrivare a fuoco Eh sì 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 Beh allora diciamo che è un po' il problema Che dicono tutti anche nei gruppi eh Che è l'intelligenza artificiale che è troppo stupida Ma stupida che ti viene addosso è tipo un binario Però sì la possiamo fare più stupidina Ma sì ma infatti fai bene Andrea Grande rispetto Respect Chi se ne frega Ma anche qua vedi adesso per dire Io adesso ando con la Ferrari E Charderino con la Williams Quindi a macchina non c'è paragone ok Quindi anche lui deve fare una fatica incredibile per starmi dietro Però Charder è bravo come te Come ma Poi quando faremo quell'altra Che Charder avrà l'altra Red Bull Come te Ma se vince sempre lui Non me ne frega niente C'ha capito amico mio Si fa per divertirci tra di noi Ma chi se ne frega Ah è pari? Ah ok Non lo sapevo Ah le prestazioni delle macchine sono pari? Eh Eh non lo so ha detto così Però sto correndo anche Non è che proprio Riesco a capire perfettamente tutto quello che si truono i nostri amici Non ho capito se Bisogna fare le prestazioni pari O adesso siamo pari Non l'ha capita Non lo so Tanto se andiamo Guarda Se siamo in quattro Che non entra un'altra gente Per forza Bisogna essere pari Altrimenti non è competitivo Eh Bello Beh però quello che dice lui Eh nel senso Quello è vero Kevin Però se lui dice Allora entra uomo tigre Che entra dopo Che noi abbiamo già scelto Red Bull E cosa Eh WebPsycho Grande Luigi Mi dico Eh eh Luigi becca una macchina del merda Drums Corre Vabbè è giusto farlo pari Ma no Facciamo pari Chi se ne frega No Sono finite le ferie Amico mio Scusami che Devo rispondere un attimo All'amico Si torna a giocare Oh Beh allora Che sia finita le ferie Non è un male È un bene Così torna a giocare Amico mio Cosa giochi Cosa giochi Io gioco a Formula 1 Domani a Gran Turismo Sto portando un sacco di video Sul mio canale Luigi Se vuoi vedere i video Come si pulisce la Playstation Come si pulisce La pedaliera del volante G900 Ah il Taimese L'ho preso anch'io Amico mio E piango Di dolore Perché sono arrivato A un punto Dove c'è un tipo Su un Su una passerella Che mi Mi gratta le orecchie Mi gratta tante orecchie Allora secondo me è bellissimo Poiché non c'è la stamina È veramente bello Però è difficile Per me è difficile Poi chiaramente Ci sarà qualcuno Che l'ha finito in 5 minuti Guardando anche la televisione Probabilmente Eh? Il Kevin O col controllo È fatto con le banane Incredibile ragazzi C'è gente Veramente Terminata E' un po' di E' un po' di Ce la fa Ce la fa Sì Col giro veloce Vai vai Kevin Dai quarto Hai già finito la gara Bella Scusa Kevin Ha detto Charder Vai tranquillo Charder Tranquillo Tranquillo Oh Guarda qui Kevin Non sono tanto esperto Tu sei espertissimo Amico mio È che il gioco È fatto male Perché E poi può capitare Ragazzi Stiamo correndo Stiamo correndo Non stiamo Giocando Quindi quando si corre Può essere Che una botterella La si dà Eh? Ho anche tre Se c'è Carla Anche dieci E comunque Si sono pari Però sempre Che faccio fatica Se usi queste auto Non stiamo giocando A briscola No Non lo so Charder Non so se sono pari In questo campionato Nel prossimo Probabilmente Le facciamo pari Vero Kevin? No In questa cosa Lega Non sono pari Non lo so Se siamo pari o no Nella prossima Le facciamo pari Le macchine Si Perché ha detto Anche Charder Si Perché c'ha Una macchina De merda Lui Non potrà mai Competere C'ha una Williams Come fa a competere Con la Ferrari C'è l'ultima Ci sarà una fine Della Lega Che dirà Gra Complimenti Avete finito La Lega Bravi Spero Portogallo Quattrocento Punti Allora Andrea è andato Grazie a tutti E se no Lui è più scarso Deve andare più veloce Di me E può sbagliare Più Cioè Nella realtà Nella realtà Ognuno Cioè Se uno ha una Ferrari Va più veloce Di una Williams Però qua è un campionato Fatto Per divertirci Quindi alla fine Della fiera È giusto Secondo me Che Che si fa tutti uguali Però Questa qui Era una Lega Per provare La Lega Infatti L'abbiamo fatta Troppo lunga L'abbiamo fatta Con tentativo unico Adesso le cambiamo Facciamo Non so Il tentativo breve Per fare Il tempo E poi facciamo 15% di gara Poi facciamo Che non può correre Il bot Che ci sia la safety car Adesso Nel prossimo Lo facciamo Seria Capito Poi più entrate Meglio è Tanto se poi Non ci siete Ci sono i bot Che corrono E i bot Li abbassiamo Perché sono troppo Competitivi E purtroppo Nell'online Il troppo competitivo Del bot Ti butta fuori Non diventa E non lo so Se sono 45 40 50 Li mettiamo Al 30 Al 35 Li mettiamo Proprio Che sono stupidi No dai Zero Figa Zero Poi Li prendiamo Dentro Perché non vanno Eh si Infatti Cioè No dai Zero No 35 Già Rischiamo Di beccarci Di dentro In curva Non me la ricordo Portogallo O forse sì Ma in realtà Non me la ricordo Ti ho detto Devo lasciare La linea verde Per terra Perché se no Non ce la faccio Vedo la linea Eh si Ma infatti Chi se ne frega Cioè Uno vuol vedere Una live Senza linee Va a vedere Con i bravi Noi Lo facciamo Per divertimento Per Per passare Una serata Insieme Bella Portogallo Sì Ti dico la verità Molto bella La pista Non me la ricordavo Cioè Me la sto ricordando Un po' Alla volta Portogallo Siamo noi tre Grandi 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 La squadra Corsa Ragazzi SDRT S Eh no MDRT Non mi ricordavo Neanche il mio A posto Siamo Ragazzi MDRT Non mi ricordavo La mia La mia scuderia Vabbè Stavamo messi bene Via Go 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 Mannaggia Urca lochi Che cosa? Tu Noo Andato addosso Vabbè Sei inculato Dai Sì? Io qui riguardo Senza lava Un secondo No no Anche Alonso ti è girato Anche l'ultima Mamma mia Ragazzi Ferrari wins Bellissimo Questa curva L'ultima prima Del rettilineo È un sinistra Tenuto giù Tutto Con Con la cunetta Bellissima Bellissima Non me la ricordavo Portimao Questa Penso È nostra Dove Corrono Anche le moto Bella Porca Loki Grande Loki Porca Loki Di Abbiamo finito Fai la nuova Tanto sono già le 11 La live la chiudiamo Tu hai tutto il tempo di fare con calma La nuova lega Ma quello che devo capire io Se entra uomo tigre Se entra Andrea Dopo che abbiamo già cominciato Possono entrare o no Nella lega Se adesso vuole entrare uomo tigre In questa qua che stiamo vivendo Può entrare o perché l'abbiamo già fatta così Non può più Vabbè le prime le ha aperte L'importante è che può entrare Ah no Marco non si può Ha detto Andrea Non so Ha detto no Gioca la IA Beh gioca la IA Chi se ne frega Nel senso Ah perché se dobbiamo aspettare tutti Allora o facciamo una lega Che giochiamo davvero Nel senso Ragazzi ci siamo tutti al giovedì Al giovedì si gioca questo Alle 21 Poi però se qualcuno non ha un impegno Come facciamo C'ha capito È per quello che noi la facciamo così Che perché per uno non c'è Gioca la IA C'ha capito Andrea Se no dobbiamo fare una lega solo Chi c'è Quindi io Kevin E Shardel Ci siamo praticamente sempre Tu già con gli turni di lavoro È un po' più incasinata Non si possono fare più leghe diverse Traiettoria assistita Che cosa vuol dire Che cosa vuol dire assistita Andrea Traiettoria assistita Che vuol dire Adesso schierà Se dici la lineetta verde Sì no Non me la ricordo Non me la ricordo La pista amico mio Già in In Gran Turismo Me le ricordo di più Però vanno a velocità minori Quindi anche se per dire Non c'ho la lineetta Faccio tempo qui E vanno troppo veloce le macchine Come cambio automatico Non senti che sta smanetando Guarda Vedi Se non cambio È in terza Ah Oh A fare il coglione Sharder Grande Approfittato Grande Sharder No no Non c'ho il cambio automatico Guarda Dai ci mancherebbe Che corro col cambio automatico Con la guida assistita Andrea Sai cosa vorrei fare Ah Sharder Come Ha approfittato subito Grande Grande Sharder Fatto solo che bene Ho fatto lo stupido A fare A far vedere Andrea Che andavo Che non scala Non aumentavo la marcia No Kevin Perché mi ha detto C'è il cambio automatico No C'è il cambio automatico Tattica Ah 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 Grazie 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 amico Eh Sharderino viaggia Eh Sharderino viaggia Ho il controllo della trazione completo Perché non c'ho voglia Che mi si gira Ah ah C'ho il piede Pigro Che non Non fa tanto Quello si Con la trazione Completa ce l'ho Quello si 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 No no Completa si Figurati No 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 Non Si no no Ma non Non ci sto proprio Neanche a giocare Senza Non ci sto proprio A giocare Bisogna In Gran Turismo Posso anche mettermi dietro A fare le cose Ma qui no 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 Si anch'io ce l'avevo medio Ma mi sono rotto le palle Si dico la verità Grande No 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 Completo proprio E vai che va bene Non voglio proprio Neanche parlare Del controllo della trazione Ah 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 Vediamo l'amico No Sharderino È andato a manetta qua Raga A parte che ho sbagliato Ho fatto io la marcia Per fargli vedere Andrea Ma era una questione Di pochissimo Ho fatto una curva Che invece di mettere In quarta subito Ho tardato un po' Bravo 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 Sharder Questa l'hai vinta Alla grande Grande amico mio Ho visto un aereo Voglio fare gli aerei Fatti come le ali Dietro di queste macchine Qua eh Una livrea gratis ad Andrea Per averti aiutato Perché mi ha fatto sconcentrare Va bene Ci sta Sharderino Gliela fai? La livreina Andrea? Grande Questa mi è piaciuta Questa mi è piaciuta ragazzi Allora Abbiamo finito? Andrea ha fatto di tutto Sharder eh Per sconcentrarmi Mi ha detto Ma stai correndo da solo? Corre il computer? C'hai le marce? Che guida con le marce Guida tutto lui Marco Drums non guida E fa finta? E invece no Invece Marco Drums guida Oh Grande Sharder Facciamolo vedere Una bella vittoria di Sharder Anche prima aveva vinto Ma con la penalty È arrivato il secondo Grande Sharder Grande Marco Drums Se ci voleva Andrea o Kevin di fianco In terza posizione Amici miei Quindi Vincitore No Davvero? Hai la macchina Diesel O senza piombo? La mia è diesel No la mia è elettrica Con C'ho su un Un alimentatore Di quelli lì A benzina Che produco la corrente Sai quelli che si usano Nei cantieri Ti immagini Che carica le batterie Incredibile Sharder Va col più ondo Col più onbo In attesa di conferma Che cosa? Confermiamo? No No scusa Che cosa Devo confermare Classifica Costruttori 505 Abbiamo vinto Posizione Classifica Marco Drums Primo Eh ma in attesa di conferma I risultati Sanno confermati 72 ore dopo Allora Oppure può essere confermato Manualmente Da un amministratore Della Lega Quindi chi l'hai fatta? Tu? Devi confermare i risultati Così finiamo la Lega Hai visto cosa Cos'ha successo? Kevin I risultati Saranno confermati Automaticamente 72 ore Dopo l'evento In alternativa Possono essere Confermati Manualmente In qualsiasi momento Da un amministratore Della Lega Quindi tu Che l'hai fatta? Non accettare Come no Oh Ma Andrea Eh Vai bravo Ho vinto Ho vinto Ma cosa vuoi? Vi ho Abbagliato Con la mia bravura Vi ho stortato Le orecchie Con la mia velocità Starà Facendo Con i tuoi Abbaglianti Che cosa? Confermate? Sì sì No ma devi confermare questa Non devi farne un'altra Amico mio Se non confermo Eh? L'hai confermata? Eh ma Mi ha dato Una medaglia E come mai? Conferma risultati Ah Errore Stai tentando Di confermare I risultati Di una stagione Non già confermata Quindi Stagione conclusa E come mai Non mi ha dato Un cacchio A me Se a voi Mi ha dato La No dai Ma Shard Gli ha dato La medaglia A me Non mi ha dato Niente Non ci credo Ho vinta Ma no Aspetta No 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 Aspetta Aspetta Me l'ha data Adesso Scusate Scusate Medaglia di Lega Oro Oro Bella Sì 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 L'amministratore Corrotto Ma Fai a dieci Fai le prime dieci Sì Allora Io accetto Ragazzi Poi facciamo La prossima volta Quindi oggi lunedì Mercoledì sera Se volete Entriamo Anche uomo tigre Ma credo che non ci sia più In live Perché non lo vedo commentare Ma se c'è Mercoledì sera Rientriamo Invitami in un'altra Lega Poi l'accetto Quando ci siamo tutti Esatto Mercoledì Se ci sei Andrea Grandissimo Ti invitiamo a te Uomo tigre A tutti Quando entrate Anche se noi la cominciamo Andate avanti Da quello che è Il bot Insomma Tanto ragazzi Non ce ne frega niente Che vince Solo una medaglia Sì Sì Credo di sia Amico mio C'è problema Amico mio Tu sei dentro Nella Lega Quando accendi Anche dai 5 minuti Accetta Così sei dentro Ok Poi appena Puoi giocare Giochi Se no gioca il bot Al posto tuo Non farti problemi Ragazzi Siamo qua per divertirci Ah ok Allora ragazzi Possiamo uscire dalla Lega Multigiocatore Lega Cronologia Lega Eh io non so se posso Uscire E come faccio? La stagione è conclusa Abbandona Lega Abbandonate la Lega Ma non ci sono tutti Se non c'è Andrea Sperando che la mia Faccia meglio di me Ah ha 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 Bella sta Lega bella ragazzi bella ragazzi dovremmo arrivare a avere una lega da 20 persone 20 persone sarebbe veramente una figata assurda Marco ma puoi dare il VIP allo sharderino? ma puoi dare il VIP allo sharderino? che cosa vuol dire? no non posso darglielo perchè ha già troppi tu dici qui su Twitch adesso sto facendo perchè lui ha già no porca miseria ho sbagliato qui c'è un sacco di operazioni informazioni dettagliate ripiro gli obiettivi community gestione ruoli allora allora archivista moderatore allora moderatore archivista vediamo se posso dargli il VIP no gli posso dare editor gli ho dato editor allora editor moderatore artista non posso dare il VIP perchè c'è la Carla uno solo è VIP c'è la mia moglie si scusami scusami stavo facendo una cosa qua non posso dargli l'artista al sound alert streamer dimmi scusa si 6 4 10 va bene ciao amici si metti pari intanto vi faccio vedere un po' di prova a tempo su un bagnato ragazzi 2 settimane hai due settimane per il numero grino ora non hai più scusa eh si amico mio eh se ce la faccio guarda sarei l'uomo più felice del mondo non credo che che abbia problematiche adesso il pedale almeno io lo vedo proprio che non ha problematiche amico mio che eri a posto amico mio adattito sharder non lo so che cosa? standard vai sempre tutto di standard poi dopo vediamo quella lega lì se funziona la modifichiamo in base capito? che cosa? la nota? ah la penalità metti normale normale o ridotta perché magari se uno ti butta fuori il bot poi c'è la penalità ma ti c'è ridotta allora normale regolare esatto infatti sharder marco pista preferita qui vabbè Monza è sempre in qualsiasi gioco la mia pista preferita però sinceramente Stapportimau non mi è dispiaciuto per niente ti dico la verità si faci dai giro di riscaldamento possiamo fare anche il giro di riscaldamento sinceramente invece che subito la partenza si dai fai il giro di riscaldamento ci sta tanto si perdono un minuto in più non è che l'importante è che fai le qualifiche con le porte che facciano 3-4 giri perché subito qualifica così c'è è tosta bravo ok e proviamo sta lega ragazzi fai ridotta ciao amore mio perché ci tocchiamo dentro ok già perdiamo gli allezioni così c'è la modalità televisiva sia nella safety car e quando c'è giro di formazione bello silvestone è molto bella Andrea ti dico la verità mi piace di più questa però vabbè chiaramente sto correndo con l'acqua che cosa? che team volete fare tu Andrea charter aspetta prima di scegliere il team così vediamo anche loro che cosa vogliono fare magari voglio fare loro la Ferrari facciamo fare la Ferrari loro aspetta aspetta eh questa che prima abbiamo scelto noi sì ma tanto le auto sono uguali sono pari una all'altra Mercedes Scharder Andrea tu sei con Scharder in Mercedes prestazioni pari da messe l'ha già messo l'ha già messo poi il team c'è la Mercedes Scharder adesso dobbiamo vedere io e e Kevin cosa fare se volete non so fare magari Kevin e Andrea e io Scharder o come volete Kevin e Scharder lei stessa adesso la prima l'abbiamo fatta io e l'amico Kevin però possiamo fare qualsiasi roba se volete andare la Ferrari voi non c'è problema se no la faccio Ferrari io quello che volete ragazzi eh stiamo facendo la Lega adesso poi la facciamo di 10 gare ok Andrea e Scharder quindi se poi c'è problematica in quella dopo allora Andrea e Scharder sono Mercedes sì allora se vuoi allora fai Red Bull insieme a te dai così siamo scuderie eh vogliamo essere tutti della cioè insieme ragazzi o volete fare ognuno singolo non ha senso secondo me però secondo me sarebbe meglio se stiamo insieme cioè io e Kevin e voi due se volete fare così al fine non conviene ok adesso lo invito adesso 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 sto facendo la prova a tempo solo per perché stavo aspettando fammi fare un giro veloce che ora sono adesso Kevin sai che volevo fare una live con SnowRunner neanche il tempo personale vabbè dai usciamo tanto 1600 al mondo sono sono già più che felice vero Allie zero punti bella lì e cosa l'ho fatto fare a nulla le prove sul tempo non servono a nulla allora accettiamo ci salutiamo ci vediamo domani sera ore 21 Gran Turismo 7 oh lì allora hub il tuo Russell 2 il mio Hamilton allora accetta invito la prossima entro nel party non lo vedevo eh caspita te l'ho detto amico mio eh te l'ho detto 3-4 volte vuoi entrare nel party vuoi entrare nel party non mi hai risposto vabbè fa niente dai ok ragazzi allora dai io ho accettato la nuova Lega quindi la prossima volta che giochiamo credo mercoledì se ci siamo se no venerdì ok quindi ci siamo siamo già tre allora ah io devo accettare tu che cosa hai fatto allora ok dai io vado con vado con con Red Bull così poi voi due Sharder ha già scelto vero? ah non ha scelto la macchina ok invito invitiamo mitico Andrea comunque se vuoi portare più gente in live scrivi lobby aperte magari si becca qualche altro appassionato si Mercedes si però la lobby aperta ti becchi anche quello che viene ti sportella e poi ride scappa quindi io preferisco che si iscrivano al mio canale e poi giochiamo insieme a loro sinceramente perché so già che è un disastro sinceramente però allora io non vedo c'è anche Giulia tra l'altro si non so non ho la più palida idea magari se uno va addosso agli altri e tu gli puoi dare la penalità capito penso penso che è per una roba del genere penso sinceramente però sai magari qualcuno fa lo scorretto e gli dai la penalità così non lo fa più penso comunque il mitico non lo vedo tra l'altro carica di merda poi mi vedo penalità di 8 e mi sale il crimine esatto esatto vabbè se fai qualcosa ti sbagliato te lo si dice in live però tu calcola come dici tu se fai una live aperta ok entra dentro uno e va addosso a tutti allora in quel caso lì lui può dare una penalità capisci ha senso in quel caso lì comunque io non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo il nostro amico uomo tigre quindi non so come invitarlo vabbè allora ragazzi abbiamo la prossima lega Bahrain Arabia Saudita Australia Imola Miami Spagna Monaco Azerbaijan Canada Gran Bretagna credo che la incominciamo mercoledì chi c'è c'è gli altri poi correrà il bot per loro se riesci ad almeno accettarla Andrea magari domani arrivi dal lavoro accendi l'accetti e spegni se non puoi giocare almeno sei dentro con noi e neanche saranno bestemmie hai già invitato ok quindi ti ho già invitato sì credo proprio di sì 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 già normalmente sono bestemmie quindi figuriamoci quella lì sì 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 ok dai ho finito una lega primo quindi sono contento la prossima sarà molto più difficile da vincere la allora la mia casa la mia casa vediamo che ah ok no la mia casa il profilo pilota penso che non ci sfrega niente loghi no ce l'abbiamo fatto lo livret dove si mettono le madonna tutte le volte deve andare showroom virtuale forse qui no dove ci mettono le coppe sul visitatori madonna ma che roba ma come l'ha fatto sto gioco col culo l'hanno fatto visita il di shard ok di soulkiller ti masso mi piace ok sharderino io ho già entrato scusa trofei aspetta ma perché poi ti metto mi piace madonna l'online di sto gioco fa veramente schifo manual tracking rk ma volevo ti dico la verità aspetta fammi vedere così almeno vi dico se vado a usare un runner un po' si f1 live live dove è dove è f1 live e poi ciao amici come state grandissimi iscrivetevi al mio canale dai raga forza 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 trofei trofei ok cambia trofei e le aggiungo medio settimanale medaglia d'oro non si può aggiungere la medaglia d'oro no ok licenze allora frequenza s sicurezza niente abilità da definire perché bisogna fare online giusto per varie quelle perfetto così ho messo il mio trofeo adesso vi dico se vado su snow runner un secondo solo vediamo il secondo se no vado su snow runner su sulla play snow runner 270 spettatori potrei potrei anche andare sinceramente ragazzi facciamo una live tira su snow runner venite dentro tu viene a vederla a kevin dai ragazzi io vi saluto buonanotte a tutti grazie per essere stati con me stasera mercoledì ore 21 altra lega la cominciamo con l'amico kevin ciao kevin con l'amico sharder con l'amico andrea e con l'amico uomo tigre e poi chi vuole venire venga ciao andrea grazie di tutto davvero sei fortissimo grazie grazie amico mio di essere stato con me di aver giocato e di ridere e scherzare con noi quindi ci vediamo quando tu puoi so che il lavoro si è incasinato ma quando puoi entra dentro così ci divertiamo micro mio dai e adesso vado su snow runner facciamo una live sempre qui su twitch su snow runner un po' quanto è se volete entrare grazie mille se no tranquillamente potete anche andare a letto o fare altro e però volevo farla perché è veramente fico mi piace mi piace come gioco stiamo giocando anche il live su youtube con sharder e kevin quindi mi è piaciuto mi è piaciuto ciao mitici belle gare domani ciao sharder ciao amico mio ciao amico mio e niente grazie a tutti e ci vediamo domani all'ore 21 gran turismo 7 mercoledì e invece ore 21 formula 1 2022 e poi ci saranno altre live del pomeriggio ma le faccio magari su youtube o vediamo insomma se ritorno su twitch vediamo un attimo ciao a tutti grazie buonanotte a tutti adesso 5 minuti e parto con una live sempre qua su twitch con snow runner e basta e snow runner e basta ciao amici buonanotte ciao kevin ciao 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 ciao